se hai bisogno di soldi o un'aggiunta dell'axo o completi modati non esitare a contattarmi iscriviti a tutti i miei gruppi telegram next gen e all gen ragazzi iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da ps in descrizione trovate i gruppi anche per playstation e adesso al nuovo video benvenuti raga qua è savix che vi parla oggi ragazzi aggiornamento settimanale del 2306 mi scuso per la mia poca presenza sul canale ma ragazzi secondo me non ha senso riempire il canale di cazzate se purtroppo gta è fermo quindi come veicolo del podio ragazzi abbiamo l'rt 3000 ragazzi questo mezzo è carino ma fa schifo secondo me non tiene assolutamente niente se volete driftare è ottimo se volete vincerlo lascio come sempre in descrizione il glitch della ruota per vincere sempre ciò che si vuole a questo punto ragazzi passiamo subito con ls autoraduno questa settimana ragazzi come veicolo podio di ls abbiamo la fmj come al solito bisogna arrivare tra i primi te nelle gare della settimana poi ragazzi hanno messo l'arbiter hsv carina questa macchinina e poi risbucano ragazzi lettergate rs dopo di che abbiamo la zr 350 ragazzi e la magica caldico allora spoilerino queste tre macchine perché questa settimana abbiamo tutte le attività tutte le auto con rp doppi e le auto scontate di los santos tuners ragazzi quindi ci saranno anche i colpi dell'auto l'officina con xp per 2 detto questo ragazzi passiamo alle gare a tempo di questa settimana che si trovano in questa posizione quindi la gara di ao si trova qua ragazzi esclusiva per next gen qui al ciliat abbiamo la prova da 100.000 dopo di che qua sotto in basso abbiamo la gara rc bandito ragazzi quindi adesso possiamo andare a vedere tutte le auto che stanno in leggendari motosport ragazzi di ls auto raduno del dlc scorso sono tutte scontate non ve le starò ad elencare ragazzi perché tanto basta che andate sul sito vedete parte di ls e quindi sono quelle adesso ragazzi passiamo alle attività con gli rp doppi abbiamo le gare stunt finalmente un paio di gare stunt carine per potersi divertire magari in settimana qualche garetta con gli iscritti se volete la facciamo scrivete nei commenti se volete farle e adesso sbada bam e regà vi lascio al prossimo video buona visione ciao